Questa mattina sabato 27 luglio 2024 a Isola Liri nel Frusinate una 75enne è stata aggredita da due cani mentre cercava di verificare dei rumori nel pollaio. Intorno alle 7.20 la donna ha udito dei rumori e temendo che delle volpi avessero invaso il pollaio è uscita di casa invece delle volpi ha trovato due grandi cani neri che stavano tentando di abbattere la recinzione per raggiungere le galline. Quando i cani hanno notato la donna l'hanno attaccata, lei ha cercato di scappare e rifugiarsi in casa ma i cani l'hanno seguita, aggredita, morsa al polpaccio e alla mano. La donna ha iniziato a gridare attirando l'attenzione del figlio che si trovava al piano superiore e per salvarla il figlio ha lanciato dei petardi avanzati per spaventare i cani che sono fuggiti. I soccorsi sono intervenuti prontamente trasportando la donna all'ospedale di Sora dove è stata operata per le ferite al polpaccio necessitando di numerosi punti di sutura. I carabinieri sono intervenuti e hanno avviato la ricerca dei cani responsabili dell'aggressione.